Il generatore di Van de Graaff Lo strumento è costituito da un piccolo motore, posizionato sul fondo, capace di azionare un cilindro, il quale iniziando a ruotare azionerà di conseguenza una cinghia collegata a sua volta ad un secondo cilindro ruotante, posizionato in cima allo strumento. Due elettrodi metallo sotto forma di file a pettine di punti metallici appuntiti sono posizionati molto vicini alla cinghia, in prossimità dei cilindri ruotanti, uno in cima e uno nel fondo. L'elettrodo superiore è collegato a una grande sfera cava di metallo che sovrasterà lo strumento, mentre l'elettrodo inferiore è collegato ad un filo che porta ad un'altra sfera metallica di raggio minore esterna alla struttura principale dello strumento. I generatori di Van de Graaff non sono costruiti tutti con gli stessi materiali, ma è sufficiente che la copiata di questi ultimi sfrutti pienamente l'effetto triboelettrico, ovvero un fenomeno elettrico che consiste nel trasferimento di cariche elettriche e quindi nella generazione di una tensione tra materiali diversi quando vengono strofinati di loro. Pertanto nel nostro generatore la cinghia centrale è di cotone, un materiale relativamente neutro, mentre i due cilindri sono costituiti da un materiale conduttore, il quale avrà una tendenza a perdere elettroni come l'alluminio in cima e da un materiale isolante, che avrà invece una tendenza ad attrarre elettroni come la plastica nel fondo della macchina. Ora passiamo al funzionamento vero e proprio del generatore. Quando il motore inizierà a far ruotare il cilindro inferiore, quest'ultimo si strofinerà contro la cinghia, facendola muovere e creando così attrito tra i due componenti. L'attrito creatosi causerà lo spostamento degli elettroni dalla cinghia, la quale rimarrà con una carica positiva, al cilindro, il quale invece diventerà carico negativamente per la sua natura isolante. Contemporaneamente, tra il cilindro carico negativamente e l'elettrodo inferiore, si verificherà il fenomeno dell'induzione. Infatti, le cariche negative all'interno dell'elettrodo tendranno ad allontanarsi il più possibile rispetto al ruolo negativo, percorrendo l'unico percorso possibile che poi le porterà alla sfera di raggio minore. Di conseguenza, nelle punte dell'elettrodo rimarranno cariche positive, le quali verranno attratte per la forza di Coulomb dal cilindro carico di segno opposto. Tra i due componenti, quindi, si crea un campo elettrico che comporterà lo spostamento degli ioni negativi dell'aria fra i due componenti verso le punte positive dell'elettrodo. In questo modo rimarranno ioni carichi positivamente che, attratti dalla carica negativa del rullo, si muoveranno verso di esso, ma non lo raggiungeranno mai perché la cinghia interrompe il percorso. La cinghia li porta in cima alla macchina e, quando essa carica positivamente e si strofinerà con il cilindro superiore, comporterà lo spostamento degli elettroni dal cilindro alla cinghia, grazie anche alla natura di conduttore dell'alluminio di cui è composto il cilindro superiore. Analogalmente a quanto è successo inferiormente, si verificherà il fenomeno dell'induzione e quindi le cariche positive dell'elettrodo tenderanno ad allontanarsi il più possibile dal cilindro positivo, arrivando a posizionarsi ordinatamente su tutta la superficie della sfera metallica. Continuando a ruotare, i componenti fanno in modo che la sfera accumuli sempre di più cariche positive, fino a quando si creerà una differenza di potenziale talmente grande da ionizzare l'aria tra le due sfere in modo che si crei una scarica elettrica. Grazie.